Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e strigiona tutta la tua energia perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. Per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. Eccoci qui, buongiorno a tutti e bentrovati su Liberamente Live, lo spazio che dedichiamo alla psicologia e alla crescita personale sempre insieme a un ospite. Io sono Matteo Neroni, psicologo, psicoterapeuta, autore del podcast Liberamente e qui accanto a me questa mattina ho il piacere di avere Paolo Bagliocchi. Buongiorno Paolo e grazie per essere qui. Ciao Matteo, grazie a te di questo spazio condiviso. Ed è uno spazio condiviso Paolo che vale doppio secondo me visto che stiamo registrando il 25 di luglio. So che entrambi ce ne andiamo in ferie fra pochi giorni ma ci siamo dati questo appuntamento prima di sciogliere le fila e quindi veramente grazie a maggior ragione per essere qua nonostante il caldo. E magari anche la voglia un po' di vacanza, chi lo sa, magari c'hai anche voglia di riposarti. Un attimo, giusto un pochino. Giusto un pochino, anche perché Paolo so che tu fai veramente tante cose. Quindi prima di andare un po' nel cuore dell'incontro di oggi, di questa chiacchierata che ci facciamo, che è appunto la ferita invisibile, quindi il trauma psicologico, come possiamo usarlo come un'opportunità di crescita. Che è un tema estremamente interessante, molto caldo, quindi in linea con la temperatura che fa questo periodo. Per le persone che non ti conoscono Paolo, aiutaci a capire un secondo chi sei e che cosa fai nella tua vita professionale di tutti i giorni. Allora, ho 62 anni, sono medico, psichiatra, che ha fatto tre specializzazioni in psicoterapia. 20 anni fa circa il MIUR mi ha dato la possibilità di avere una mia scuola di specializzazione in psicoterapia della Gestalt. Ho lavorato con Claudio Naranco, che è stato candidato al NOV per 25 anni, mi sono formato in America, poi ho girato il mondo con lui. E quello che faccio è che sto, credo molto in una diffusione di strumenti, credo ne parleremo Matteo tra un po', diffusione di strumenti che siano di proprietà delle persone e non soltanto degli psicologi. Io credo che uno psicologo debba in qualche maniera fornire ai propri clienti, alla propria comunità, degli strumenti che rendano autonomo il… mettiamo paziente, perché noi psicologi, psicoterapeuti vediamo i pazienti, ma quelli si chiamano pazienti per noi, loro come se stessi si chiamano persone, si chiamano Gianni, Mario, Maria, Sandra. Mario e Maria, Sandra secondo me hanno diritto ad avere strumenti che usino al di fuori della seduta con i pazienti. Questa è un po' la mia fissa, un po' la mia ossessione, mi sveglio di mattina e vado a dormire con questa idea. Ottimo. Beh, allora, insomma, sei nel posto giusto, perché qui sul podcast liberamente io cerco di fare più o meno la stessa cosa da circa cinque anni, insomma, fortunatamente le persone trovano giovamento. Quindi, bene, bene, andiamo su quest'onda insieme, Paolo. Allora, cominciamo dalla parola trauma, perché la parola trauma deriva dal greco che significa ferita, una lacerazione e possiamo dire che in un certo senso, in ambito medico, tante volte il trauma, appunto la lacerazione, è più facilmente riconoscibile, no? E quindi, essendo più facilmente riconoscibile, è più visibile e quindi viene più legittimata, tante volte, no? La ferita fisica, il male fisico. Molto spesso, invece, il trauma psicologico tende ad essere invisibile e quindi meno tangibile. Ecco perché, no? La chiacchierata di oggi l'abbiamo chiamata la ferita invisibile. Allora, volevo chiedere a te che di questo tante volte ti sei occupato e ti occupi. Cosa si intende per trauma psicologico e quanti tipi di traumi esistono? Allora, un trauma è molto semplice definirlo. È un evento che sollecita la nostra psiche al di sopra delle nostre potenzialità. Faccio un esempio. Se uno di noi, che non è uno stuntman, fa un incidente e si spacca un braccio, molto probabilmente farà un trauma. Noi non siamo abituati a reggere quel tipo di evento traumatico, un evento doloroso, un evento critico doloroso, tipo rompersi un braccio o fare un incidente. Se noi facciamo un incidente, molto probabilmente quello che succederà è che, usciti dall'ospedale, quando ci avranno rimesso a posto il corpo, mentre ci avviciniamo a una macchina e soprattutto al posto dove abbiamo fatto l'incidente, tenderemo a avere qualcosa tipo attacchi di panico, vertigini, un senso di disagio che, quando siamo freschi dell'incidente, a volte colleghiamo all'incidente. Però in futuro, dopo dieci anni, potremmo esserci dimenticati di questo. La ferita viene messa, come diceva Freud, sotto quel sistema di addormentamento e di anestesia che sono le difese psichiche e noi non riusciamo più a fare il link, cioè collegare quel nostro angoscia, quell'attacco di panico, quel tipo di voglia di evitare, di scappare, o quello stato di arousal che ci nasce quando viene stimolato il trauma, non lo riconosciamo più. Quindi, che cos'è un trauma? È un evento che stimola, di dolore o di disagio, di difficoltà, che stimola la nostra psiche al di sopra della nostra capacità di reggerlo. Cosa succede se uno stante che tante volte si è rotto, braccia, gambe, fa un altro incidente con la macchina? Vai in ospedale, lo aggiustano, esce all'ospedale, rimonta in macchina e non ha assolutamente fatto un trauma, torna a fare le sue evoluzioni con la macchina senza avere più paura, senza avere paura come avremmo noi. Quindi qual è la differenza? E questo vale in tutti i campi della vita. Quindi un trauma è un evento di dolore che ha stimolato la nostra psiche sopra degli indici di tolleranza. Perché? Perché noi non abbiamo sufficiente esperienza in quel campo. Paolo, rispetto a questo, possiamo dare un po' un'idea globale di quelle che sono le capacità di un essere umano di assorbire un po' i traumi? Perché se vogliamo estendere il concetto potremmo dire che la vita è un trauma. O quanto meno. La vita è un continuo e potenziale trauma, se vogliamo. E nel 70-80% dei casi i traumi tendono sicuramente anche a risolversi naturalmente senza dover ricorrere a un intervento psicoterapeutico tante volte. Basta pensare anche un pochino alla nostra esperienza. Non sempre abbiamo dovuto accedere magari a uno psicologo, a uno psicoterapeuta. Mentre invece alcune persone continuano a soffrire per un evento traumatico anche a distanza, anche dopo moltissimo tempo. Ti vale ad aiutarci un pochino a capire e a delineare meglio quali sono le caratteristiche principali di un disturbo post-traumatico da stress? Così viene codificato all'interno del DSM e in linea generale un pochino nel contesto scientifico del trauma. Quindi quali sono le caratteristiche di un PTSD? Allora, innanzitutto vorrei dire una cosa Matteo. Quando vorrei agganciarmi una cosa che hai detto bellissima. Hai detto che il 70-80% dei traumi guariscono da soli. Questo accade ormai, è dimostrato durante il sogno. Un po' come aveva visto molto chiaramente Freud quando scrive l'analisi dei sogni. Cioè, si realizza un qualcosa che nello stato di sogno si realizza la liberazione della dimetiltriptamina, che è una molecola che permette una riassociazione, quindi una riscrivere ciò che è stato neuroassociato, ciò che è stato scritto in maniera traumatica, scioglierlo un po' come se fosse, immagina, un acido che dissolve quelle vecchie memorie e le ricompone in una maniera nuova. Questo è quello che noi chiameremo resilienza. Cioè, il trauma diventa un'esperienza di incredibile valore esperienziale. Cioè, noi maturiamo attraverso i traumi. La riprova di questo è che se tu prendi un bambino, lo metti sotto una campana e fai sì che non abbia infezioni, che non gli succeda niente, come fanno purtroppo certe mamme, che succede? Che il bambino sarà un disadattato, proprio perché non ha potuto vivere tutta una serie di difficoltà che lo hanno fatto maturare, lo hanno costretto per certi versi a capire certi aspetti della vita. Quando invece, come dicevamo, l'impatto del dolore di un evento supera le capacità, le risorse di una persona, allora avremo i sintomi. E' il famoso post-traumatic stress disorder di cui paravi tu. Che cos'è? Sono dei flashback, abbiamo tante volte dei ricordi, ci vengono sulle immagini del trauma, anche durante la notte facciamo degli incubi che sono legati all'evento traumatico, più o meno coperti dall'inconscio, ma è facile risalire al trauma dal materiale del sogno. Quello che abbiamo, abbiamo uno stato di un'attivazione di tutti i neurormoni dello stress, del cortisolo, sommisurabili, che significa che noi viviamo cosa? Uno stato di angoscia, si attiva la migdala, quindi viviamo una specie di sensazione di pericolo, come se fossimo attaccati da un predatore, perché la migdala nel nostro cervello è l'organo che serve da milioni di anni a difenderci dal predatore. Un trauma in cui camminiera stimola la migdala e quindi uno tende ad avere un po' anche delle dispercezioni, cioè tende a ingigantire i pericoli che ci sono. Che ne so, io in quella macchina non ci vado più, ma non è così pericoloso. Non è pericoloso per noi che non abbiamo il trauma, ma se uno c'è il trauma tende a vedere quasi in maniera un po' fantastica. Pericolo dove lì, pericolo magari non ce n'è. Esatto, sì, e tutto questo si associa da sotto all'angoscia e al comportamento di evitamento e a volte se uno non riesce ad evitare può addirittura diventare aggressivo, cioè c'è un malumore che può arrivare anche all'aggressione, è tipo un animale messo in un angolo, noi a volte ci sentiamo così. Beh, grosso modo i sintomi più evidenti sono questi per me. Tu dicevi Paolo che sostanzialmente in qualche modo tutti quanti noi un pochino cresciamo attraverso il trauma e di questo, di come utilizzare poi il trauma in chiave di crescita personale me ne vorrei occupare fra pochi istanti. La prima cosa però che volevo, prima di arrivare a questo, volevo chiederti un altro paio di cose. ci sono delle cure legate al disturbo post-traumatico da stress o in linea generale legate al trauma. Ti volevo chiedere come si elabora un trauma secondo te? Allora, per me l'elaborazione del trauma è legata sempre a un cambiamento, come dicevo prima, di neuroassociazione. Cosa vuol dire? Che su di un piano che non è, attenzione Matteo, cosa dobbiamo farlo capire a tutti, non è un piano razionale, logico, su di un piano più profondo di quello della logica, che è il piano emozionale o il piano corporale addirittura o viscerale, perché abbiamo questi tre cervelli, sistema limbico, abbiamo il sistema retigliano e il cervello intestinale scoperto da Gershon, è là che viene scritto un trauma. Non è nella nostra corteccia dove noi ragioniamo e quindi con la logica non ce la faremo mai. Potremmo tirare fuori tutti i ragionamenti possibili ma non risolviamo niente. Dobbiamo penetrare in quel mondo di vissuto, di vissuti che è proprio in questi altri tre livelli, viscerale, corporeo o emozionale e andare a trovare proprio quella traccia, dove c'è questa scrittura. È come se noi avessimo scritto, immagina, su un foglio, con una penna, una cosa che non riusciamo più a cancellare, quindi un'istruzione che non riusciamo a cancellare. Dobbiamo andare lì e dobbiamo utilizzare una particolare sostanza chimica, immagina, tipo la scolorina che cancella quel tipo di scrittura e dobbiamo per forza, Matteo, questo è anche importante capirlo, dobbiamo per forza riscrivere sopra, noi non possiamo, come dicevo i latini, c'è l'horror va qui, noi non possiamo lasciare, cancellare basta, come credono. E allora con cosa andremo a riscrivere? Andiamo a riscriverlo con, nel mio modo con cui vedo la terapia oggi, non tanto con idee nuone, positive, sono queste cose del pensiero positivo che io non amo tanto. Noi dobbiamo andare a rintracciare quello slancio profondo di cui la nostra natura è dotata. Ne abbiamo una sessantina di slanci che sono proprio del cervello antico, prova a pensare a sessualità, la territorialità, la dominanza, l'istinto di esplorazione, l'istinto paterno, materno. Noi siamo stati feriti in uno di questi specifici, uno o più, di questi specifici slanci motivazionali profondi, che condividiamo con gli animali e anche alcuni sono proprio umani. Quindi con cosa dobbiamo riscrivere? Dobbiamo riscrivere una logica che appartiene a quella logica antica e che diventa l'apprendimento che noi vogliamo scrivere. Quindi il trauma non deve restare una pagina nera che ci porterà a scappare via dalla vita, deve diventare una pagina fatta d'oro che ci permette di tesorizzare delle nuove informazioni con cui noi possiamo andare ancora più profondamente, ancora più vivi nelle esperienze che abbiamo avuto la fortuna, per certi versi, di conoscere anche in modo traumatico. Non si butta via niente, non si butta via niente, qua è buttare via. Quindi per riscrivere. Paolo, nell'esperienza comune o quantomeno iniziale, la persona arriva in terapia o magari non ci arriva neanche, però il concetto è che si percepiscono difficoltà psicologiche di carattere emotivo come per esempio l'ansia, come per esempio stati emotivi depressivi o altro. Allora, come si fa a riconoscere se dietro, anzi chiedo a te, dietro questi sintomi c'è sempre un elemento traumatico, cioè a questi sintomi che appaiono in superficie c'è sempre connesso un trauma? No. No Matteo, no no no, questo purtroppo è stata una svista che ci deriva un po' dall'impalcatura di tipo filosofica di tipo freudiano, no? Si pensava che tutto fosse figlio di un trauma, no. Il trauma è presente in circa un terzo dei casi, quando hai un problema di depressione e ansia. Altri eventi, ci sono altri tre grandi eventi di dolore che vanno a costruire. Il trauma è uno molto vero, molto forte comunque, ma ad esempio le perdite. tante volte noi abbiamo dei lutti che vengono proprio come i traumi messi sotto traccia, messi sotto il tappeto, dimenticati, ma agiscono. L'altra cosa, abbiamo una quantità infinita di unfinished business, si dice, in quest'altro ci sono dei problemi irrisolti che non sono né delle perdite e neanche dei traumi, ma delle cose che non siamo riusciti a chiudere. Quelle forti, quelle grosse, faccio un esempio, che ne so, ho avuto una difficoltà con il capo, non è che mi hanno traumatizzato o ho perso qualcosa, ma non sono riuscito a fare un avanzamento di carriera. Io devo vivere lì, cosa faccio? Devo seppellire quel dolore. Allora, quella problematica viene messa sotto i meccanismi di difesa, quindi a un certo punto io mi scollego, vivo, do senso e significato ad altre cose e guarda che ci sono una quantità, questa è una delle cause molto forti di angoscia, dolore depressione, sono problemi nascosti sotto il tappeto, non lo facciamo apposta, non è una scelta, è una scelta del nostro inconscio se vuoi. E l'ultima causa di dolore sono tutte le sindrome da autosvalutazione, presente la bassa autostima e dove noi abbiamo dei desideri o degli slanci, ma non riconosciamo di avere sufficienti risorse per poter arrivare in fondo nella loro realizzazione. Quindi trauma, perdite, problemi irrisolti nascosti e svalutazione, bassa autostima generano, sono come quattro grandi categorie di problematiche profonde che generano ansia e depressione. Tra le varie terapie che vengono proposte oggi legate specificamente al trauma c'è l'MDR, che è una terapia che è stata protocollata, ormai scientificamente anche dimostrata, supportata da degli scontri di ricerca per la sua efficacia, proprio per risolvere i traumi del passato. Qual è il tuo punto di vista sull'MDR? Che cos'è, a cosa serve e quanto è efficace secondo te? Allora, parlo questa volta con cognizione di causa perché sono stato per anni il rappresentante italiano dell'MDR nella zona della Gestalt, che è la psicoterapia che insegno nella mia scuola di psicoterapia. Quindi conosco Roger, Salomon, conosco tutti i formatori dell'MDR perché facevo parte. Allora, negli anni mi sono un po' distaccato da questo perché ho costruito un metodo di lavoro che è fondato non più su una tecnica come quella dell'MDR, ma su una tecnica meditativa. Ti dico un po', l'MDR funziona tantissimo ed è una tecnica straordinaria. Secondo me ha cambiato veramente la possibilità di lavoro sui traumi rispetto al passato, genera uno stacco rispetto al passato, proprio perché lavora su quei tre cervelli che ti dicevano, lavora a livello razionale come l'analisi. Paolo, scusami se ti interrompo, per coloro che non conoscessero l'MDR ti va di spiegarci meglio di cosa si tratta e come funziona? Sì, è stato scoperto dalla Shapiro ed è una tecnica. La Shapiro si rese conto che muovendo gli occhi a destra e sinistra con un certo ritmo, una certa velocità, il cervello entrava in uno stato di rielaborazione particolare. Poi scoprì che anche attraverso una desincronizzazione degli hemisferi, cioè battendo, si chiama tapping, a destra e sinistra sulle mani o sulle gambe, tu generi uno stato particolare per il cervello dove diventa possibile con una procedura andare a trasformare i traumi, andare dentro nei ricordi emozionali come dicevamo prima. Questa tecnica ha cambiato un po' la storia del lavoro sui traumi ed è fantastica e ha a mio parere un limite ed è qualcosa che io oggi come oggi non approvo più tanto perché cosa fa? Dà gli strumenti in mano agli psicologi, quindi se uno deve guarire un trauma deve andare lo psicologo e chi domina la tecnica è lo psicologo, quindi il paziente per certi versi subisce il lavoro comediare più o meno come un intervento chirurgico. Noi non penseremo mai se è possibile operarci un appendicite da soli perché dobbiamo per forza andare in sala operatoria e qualcuno ci fa questo tipo di operazione. Ma la domanda che voglio fare a te e a tutti i nostri ascoltatori, come sarebbe se fosse possibile avere una tecnica che fa sì che un trauma diventi esattamente come l'igiene dentale, cioè noi non andiamo dal dentista per pulirci i denti, ci vediamo i denti 3-4 volte al giorno e questo fa sì che noi rimaniamo, abbiamo una dentatura sana fino a 80 anni grazie all'igiene dentale. Allora e se esistesse una tecnica che permette l'igiene mentale? Cioè il fatto di ripulire i traumi mano a mano che accadono senza dover riaccumulare e dover rivolgersi a uno specialista che a un certo punto ci fa la grande pulizia dei traumi. Se potessimo far questo? Ed è lì che mi sono mosso e da qui nasce una meditazione con un codice in sei passaggi dove io insegno agli psicologi a insegnare questa tecnica meditativa, quindi non è una tecnica psicologica o una tecnica psicoterapeutica, è una tecnica meditativa come la mindfulness, tanto per capire, solo che ha dei codici specifici che permettono autonomamente al paziente di entrare in contatto con le zone di sofferenza e operare con l'operazione che si diceva prima, cioè di trovare la traccia scritta in nero, generare qualcosa che opera la cancellina e riscrivere quegli esanci sani, quindi apprendendo. Trovo a immaginare che potere dare alle persone uno strumento così, che possono utilizzare quando vogliono da soli. No, mi piace molto questo approccio che hai di consegnare nelle mani della persona, come dicevamo prima, il potere della propria mente in qualche modo e la cura della propria mente più che il potere. Ora sicuramente non possiamo entrare nel merito di tutti e sei passaggi di questa meditazione. Ti va di aiutarci un pochino proprio per alzare anche, come posso dire, il livello di curiosità rispetto a questo, che per me è già molto alto, di questa meditazione. Qual è, di questi sei passaggi, qual è il passaggio secondo te chiave che in qualche modo permette alla persona proprio di imparare a prendersi cura di sé e dei propri traumi? Allora ci sono tre grandi momenti. Il primo momento indispensabile è quello che noi chiamiamo caricare le bombole di amore, perché quello che si sa da tutte le tradizioni sciamaniche, che ho avuto anche il piacere, la fortuna e l'onore di frequentare un po' in giro per il mondo, quello che si sa dallo studio della guarigione in tutte le culture è che ciò che cura è l'amore. Non è possibile curare e c'è un amore particolare, che è l'amore di tipo compassivo, che è l'amore che una mamma ha verso un bambino. Non è l'amore del guerriero che protegge, è un amore di una donna che prende in cura. E sì, è un amore materno, compassionevole. Allora, se noi non abbiamo una dose sufficiente di amore dentro di noi, quando andremo sotto la barriera per trovare questa traccia scritta, in realtà la cancellina è la cosa che descrive, adesso ti spiego qual era il segreto, è l'amore compassivo. Buddha definisce la compassione, l'amore che supera il dolore e quindi è proprio poter includere, abbracciare e dare uno spazio materno di trasformazione a queste nostre memorie che se no rimangono lì rattrappite. Quindi la prima fase è caricare questa bombola d'amore, per cui faremo questa immersione e alla fine dovremo entrare dentro le memorie di dolore. La fase 2, questa è molto complicata, richiede un po' di tempo, non te la spiego in due minuti perché è impossibile, sono più passaggi, però di fondo è andare in contatto con il ricordo di questo dolore, con il ricordo e offrire questo amore al nostro bambino interno, alla nostra parte profonda in maniera tale che possa compiersi questo miracolo un po' della trasformazione, che viene operata da quella che Goldstein chiama l'autoregolazione organismica. Cioè non è che non lo facciamo con la mente, questo è un errore enorme, la guarigione avviene per un fenomeno assolutamente spontaneo e naturale che è non dominabile con la mente razionale. Ecco altro errore tipico di chi analizza troppi traumi. La terza fase è quella del riconoscere lo slancio ferito. Una cosa è avere un abuso sessuale, dove ovviamente la sessualità, ma forse anche il senso di protezione, ma forse anche il proprio senso di dominanza viene ferito. Un'altra cosa è un incidente, come dicevamo prima, un'altra cosa è una ferita sull'attaccamento, cioè una perdo precocemente la mamma perché la mamma muore in un incidente, io non solo ho una perdita, ho una perdita traumatica. E quindi lì lo slancio era quello di avere una madre che mi cura e mi assiste. Questo è uno slancio che viene ferito, occultato dall'inconscio. Allora la terza fase è quella di riconnettersi, capire qual era lo slancio ferito e permettere al paziente o a noi stessi, io lavoro tanto questa tecnica su di me, di rigenerare quello slancio, tornare a vivere quello che la vita a un certo punto mi ha impedito di vivere e mi ha bloccato. Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast Liberamente, un episodio dedicato alle interviste, quindi quella che è appena ascoltato in maniera totalmente gratuita è un estratto bello corposo dell'intervista che ho realizzato all'interno del canale Telegram, segreto privato delle menti libere. Quindi se vuoi accedere a questa intervista, così come a tante altre interviste che realizzo ogni settimana di venerdì, non devi fare altro che gratuitamente iscriverti al canale Telegram delle menti libere, scrivendo il messaggio Sono una mente libera al mio contatto personale su Telegram. Hai capito bene? Cerchi Matteo Neroni, mi invia questo messaggio e da quel momento in poi anche tu potrai entrare all'interno del canale Telegram segreto privato delle menti libere. Ma c'è anche di più, perché coloro che poi decidono di accedere alla pagina Patreon del podcast Liberamente diventano anche finanziatori e sostenitori di questo podcast potendo in qualche modo usufruire di tutti quelli che sono i contenuti plus di questo podcast. Tanto è vero che ogni intervista che viene registrata all'interno del canale Telegram è, diciamo, gratuita per tutto quanto il mese solare all'interno del quale è stata registrata. Poi passa a quello che è l'archivio delle interviste e soltanto i finanziatori di questo podcast possono godere di tutto questo archivio che ormai conta veramente più di 100 ore di psicologia e crescita personale se vengono sommate tutte le interviste che ho realizzato con tanti ospiti ed esperti liberamente d'eccezione come quello che hai ascoltato anche durante l'episodio di oggi. Quindi se anche tu vuoi approfondire questi argomenti che trattiamo qui all'interno del podcast liberamente insieme con me non devi far altro che diventare anche tu un sostenitore del podcast. A questo punto magari ti starei chiedendo ma quanto costa diventare sostenitore? Quanti denari ti devo dare Matteo? per poter continuare a immergermi in tutta questa psicologia in tutta questa crescita personale che tanto mi aiuta nella mia vita di tutti i giorni? Vai sulla pagina Patreon trovi il link all'interno di ogni descrizione del podcast ma posso dirti che già solo con 5 euro al mese ti porti praticamente a casa tutto l'archivio delle interviste da qui a quando abbiamo aperto i microfoni di questo podcast e con addirittura un abbonamento di 10 euro al mese ragazzi rendiamoci conto di cosa si tratta neanche veramente mezza tazzina di caffè al giorno veramente che offrite a questo podcast potrete diventare anche voi redattori addirittura del podcast infatti esiste una redazione del pod del podcast liberamente dove ogni redattore può scegliere addirittura quali argomenti approfondire nel podcast del lunedì dei miei monologhi quindi fate domande e ricevete risposte attraverso un podcast e addirittura potete indicarmi quelli che sono gli esperti da intervistare ma soprattutto incontrarli all'interno del privé che è il post intervista che insieme a tutti i redattori del pod diciamo diventa il fiore dell'occhiello di un podcast di psicologia crescente personale unico nel suo genere perciò io ti aspetto come finanziatore e intanto ti do appuntamento al prossimo episodio sempre qui con me su Liberamente non essere il migliore sii unico credi in te impara ad amarti e datti il potere di cambiare il potere di cambiare accetta il tuo passato vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro potenzia la tua libertà potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia tutta la tua energia perché la tua vita migliora perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare quando sei tu a migliorare questo è Liberamente il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più per liberare la tua mente ogni giorno di più a cura di Matteo Neroni non esistono per mi o però esta la tua vita migliora è Grazie.